Ah, la potenza di Yoda è inenarrabile! Ciao a tutti Creeper! Io sono Celofy e quest'oggi siamo qui su Star Wars Battlefront! Mamma mia, sei scemo, stai sparando i sassi! Guarda qui! Siamo in guerra contro le forze della... chi c'era quei droidi? Chi sono qui? I separatisti, ecco, i droidi! Ok, mamma mia, guarda qua! Troppo epico! Hanno messo sto gioco gratis sull'Epic Store e qui di nulla ci giochiamo! Mamma mia! Ci sono i droidi nemici! Praticamente per chi non conosce sto gioco e sto cominciando così! Siamo su Star Wars e stiamo attaccando i nemici, semplice! Cioè, siamo due squadre da vari players e noi siamo i cloni e i cattivi sono i droidi! Guarda lì, come sono abili! Mamma mia! Oh cavolo, mi stanno sparando! Via via via! Mamma mia, è bellissimo sto gioco assolutamente! Ci ho fatto un paio di partite e poi ho detto no, basta, devo registrarlo senza spoilerarmi altro perché è troppo bello! Non so ancora niente, infatti! E dovrei informarmi di più, infatti dobbiamo andare da qualche parte ma non capisco neanche dove, di preciso! Credo di là, ok, dobbiamo conquistare i punti in questa modalità! Eh sì, eh! Maledetti drogi! E niente! Repubblica vincerà scemi! Guarda quanti! Ok! Poi ci sono anche i vari maestri, guardate qua si possono scegliere le classi, i jedi! Mamma mia, è troppo epico! Guarda qua! Vabbè, ovviamente io sono povero quindi cominciamo con il solito tizio clone! Mi piacerebbe assolutamente farci altri video, fatemi sapere se vi piace o no! E condividete il video, anche perché ultimamente con la scuola sono davvero incasinato ed è un miracolo quando riesco a registrare! Eh, non so dove sto andando, non so se è la direzione giusta perché non c'è nessuno lì qua, quindi torno indietro! Ok, sì, li sto prendendo le spalle, mi sa! Quei scemi droidi! Vi farò vedere che comanda! Vediamo un po'! Eccoli! Mamma mia! Granata è un po' distante, non credo di beccarlo! Eh, ok! E invece sì, perché sono bravissimo! Oh porca paletta, forse non è stata una saggia idea, penderle le spalle! Oddio ragazzi, mi sa che ho appena scoperto una cosa! In questa modalità sono quattro player, tutti gli altri sono intelligenze artificiali, mi sa! Boh, perché non ho ancora capito bene come funziona! Però mi sa che qua i player sono solo quattro, tutti gli altri sono intelligenze artificiali! Perché vedete, ci hanno dei nomi assurdi! Oddio! Vieni qui! Mamma mia! E niente, mi sa che mi ammazza! Ok? Guarda quanti! È un casino, è davvero difficile! Però è fighissimo, perché ti senti proprio in mezzo alla battaglia! È proprio come nella realtà, schiatti in due secondi! Aia! Posso anche respawnare da un alleato! Figo, a saperlo prima, magari! Continuiamo a spawnare da giù in fondo! È vero, erano tutti gli nomi assurdi, tipo Ro, M, N, qui! Stiamo conquistando B! No! Mamma mia, che esplosione proprio! Razzo da polso! Mamma mia! Oh, posso cambiare classe, finalmente! Eh, sì, sono quelli scrausi, però meglio che niente! Proviamo Bo! Questo sembra molto figo e ha tutto il metto blu! Vai! Andiamo da questo, a random! Eccomi! Mamma mia! Eh, questo ha più vita! Mamma mia, meno male! Non avete speranze! Contro il megaclone d'assalto, qui! TIE! Oh! Non c'era un modo per colpire da vicino, qui! Mi sa che mi confondo con COD! No! Con la F sparo delle bombe! Sparale! Ah, no! Lancia missili! Ok! Benissimo! Guardali come si ritirano! Ma non per lui, molto! Olè! Non ho colpito nessuno, mi sa! Guarda! Boom! Boom! E ho finito le bombe, però figissimo! È fortissimo sto qui! Ok, se ne stanno andando! Sì, mi sa che sono tutti intelligenti artificiali, perché i player mica fanno così che obbediscono quello che dice la vocina! Oddio! Ok! Sono qua i droidi maledetti! Che sfiga comunque che ho beccato l'unica modalità con l'IA proprio durante il video! Tiriamogli di nuovo le granate! 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 Non ne sto colpendo manco uno! E niente, l'ho finita! Ok! Stavo dicendo che sono proprio sfigato che proprio durante il video mi capita l'unica modalità con l'IA! Che cosa succede? Perché è tutto sfocato? Boh! Non ho idea! Ok! Tiriririririr! Guarda lì! Sono un po' stupidi! Si vede che non sono player! Ok! Cos'è quella roba? Non ho idea! Mamma mia! Stiamo massacrando! È perché l'iniziativa di qua è troppo facile! Ok! C'è un altro come me! Mamma mia! Bravo! Dietro di te! Ok! Ma siamo sicuri che queste musiche non abbiano il copyright? Perché a me sembrano proprio quelli dei film No il droideca Ok è stato facile Pensavo fosse bello tosto quello E invece no Guarda lì Eeeh si Mamma mia Comunque sto qui fortissimo Non sto morendo più eh O sono diventato bravissimo O questo qui ha troppa vita Ok dobbiamo conquistare il punto A Anche se non c'è nulla a conquistare C'è una navetta scoppiata e basta Con la cucca la fa Non ho capito Vabbè Aveva tipo un sonar Oh Ok Esatto Oddio Lancia missili ora Ce ne sono tantissimi E levati Ok Sono salito di livello questo qui Che è fantastico proprio Quindi poi mi compro le carte Per le abilità Infatti ci sono tutte le abilità Ogni singolo personaggino Può essere potenziato Troppo figo E io non sto morendo Miracolo Sto capendo tutto? No ecco lo sapevo Adesso c'è lo scudo Vieni qua Un altro Ah no quello è un dorido normale Con lo scudo Perché lui può Perché di questo Olè Forse ancora vivo Quanti ce ne stanno Perché non mi fanno più danno? Sono tutto un po' potente Davvero non mi beccano Eh sì quanti Quanti guarda Guarda Via via Nella fine Non so cosa ho fatto Di preciso Lancia di sei granate Eh sì ma guarda quanti È un miracolo che Sono ancora vivo Ok Quello è morto Quello è amico mio Ok sei proprio uguale a me Bravo andiamo andiamo Che li stiamo massacrando Quanti punti avrò fatto? Poi mi potrò prendere Yoda Io voglio Yoda Assolutamente Questo è un gioco Soprattutto da fare in live Oddio quello è forte Mi sa Ok fatto Andiamo Nella tempesta Ma vedo qualcuno Con una spada laser Chi è? Boh Non si sa Fa c'è una torretta addirittura Però stiamo andando Oddio hanno il veicolo Guarda Il carro armato Oddio Ok granate Granate Porca paletta Granatalo Granatalo No è la fine Niente questo m'ha ucciso E beh ci credo È un carro armato Ho 7000 punti Posso prendere Yoda 3 E subito Yoda Tutta la vita Vai Mamma mia Ha 700 di vita Non si sa come È nanissimo Ma lui usa la forza Quindi va bene Ma abbiamo vinto la guerra La potenza della forza Tu assaggerai Riesco a farla ancora bene La voce dell'antico creeper Non mi ci Non la faccio da un casino Mamma mia L'abilità Vieni qui Assaggerai La spada laser Tu Oddio Però stanno facendo male Ritirarmi Io devo Via 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 Fuggire Fuggire Grievous Grievous No Ok basta Basta Via 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 Porca paletta Cos'era quella roba Che slittava E dei nostri Non ne ho idea Chiedo di sì Ok Fatti sotto Grievous Vieni qui Uso dei poteri F F per Fare rispetto Di come che era Stupido robot Tu pensi di affrontare Un vero maestro J.D. Oddio Mi sta massacrando La potenza di Yoda È inerrabile Sì Lo sconfitto Topo epico Oddio Però ce ne sono tantissimi Poi con il tasto destro Posso Parare i colpi Dei laser Mi pare Non fa niente Topo Ok Mamma mia Sono sotto la sua nave Qui Io qua Ma sono devastante Ok Sto un po' morendo Devo Pararmi C'ha pure il potere Nelle mani Guarda Via 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 Vai Perché il cararmato Sta qui Non ci passa Ok Fa niente Sto recuperando vita Adesso posso andare Forse All'attacco La potenza Distruzione Oddio Invece no Niente Yoda C'è morto Ok Non la faccio più La sua voce Comunque Proprio triste Come cose Posso prenderlo di nuovo Certo Però cambiamo un po' Prendiamo Obi-Wan Dai 3 2 1 Voilà Oppure posso prendere Un'astronave Ma queste qua Sono quelle che stanno a terra Ho provato un attimo Per le navi Quelle che stanno in cielo Ma proprio faccio schifo Di utilizzarle Ma chi è quello E Dooku Hello there Yeah Mamma mia Ah Perché Ma Ma stavamo vincendo Stavo massacrando tutti Ma torneremo presto Ma non è vero Stavamo vincendo Era un massacro Ok Fa niente E comunque È stato fighissimo Va bene Sono terzo Con Obi-Wan Che l'ho usato un attimo Vabbè fa niente Beh ragazzi Direi che possiamo Concludere qui È stato un video Molto breve Ma questo gioco Sicuramente Lo riporterò Fatevi sapere Se vi è piaciuto E noi Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti